Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Vedere finalmente ufficializzati prezzo e data di uscita di PlayStation 5 ha rappresentato un momento a dir poco liberatorio. In netto ritardo, sia rispetto alla concorrenza, sia alle strategie comunicative delle passate generazioni, Sony ha scoperto le sue ultime carte, mettendo il punto su una presentazione portata avanti a scaglioni e silenzi, iniziata più di un anno fa con il reveal del logo. Ora che entrambe le concorrenti hanno messo in chiaro le loro strategie di approdo sul mercato, possiamo tirare un sospiro di sollievo almeno fino a novembre. E in questo video vorrei fare un attimo il punto della situazione sullo showcase di ieri sera e come può essere contestualizzato all'interno del percorso che ci ha portato al giorno d'oggi. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle parotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Partiamo! Questo showcase ha seguito la struttura del primo reveal ufficiale di PlayStation 5 avvenuto qualche mese fa e si è confermato come un evento molto elegante, dai tempi azzeccati e dal contenuto interessante. Come se ci fosse stato veramente bisogno di una conferma, Sony ha dimostrato di non avere rivali quando si tratta di promuovere le sue console e di valorizzare i propri brand. Siamo anni luce avanti rispetto a Microsoft che nonostante l'ottima offerta della sua next gen e dei suoi servizi, fatica a fare breccia nel cuore degli utenti e a comunicare la bontà dei prodotti. Sony è invece consapevole della potenza del marchio PlayStation e gioca di continuo con le aspettative del pubblico, creando un clima di tensione e hype che puntualmente si risolve a fine showcase. Se di Lockhart abbiamo sentito infiniti rumor e Microsoft è stata costretta a svelare serie S dopo l'ennesimo leak, Sony ha tirato fuori dal nulla la PS5 Digital Edition e ha tenuto tutti sulle spine comunicando quasi di nascosto sul finire, quando ormai tutti avevano già perso le speranze, il prezzo e la data con un reveal a dir poco perfetto nelle tempistiche. E a proposito di ritmo, i 40 minuti sono passati via molto velocemente perché ancora una volta il focus è stato esclusivamente sui giochi e i titoli mostrati hanno di sicuro saputo accontentare tutti i tipi di pubblico. Si tratterà anche solo di un'esclusiva temporale, ma iniziare svelando al mondo intero il nuovo capitolo di Final Fantasy è una bella dichiarazione di guerra, anche se devo dire che il titolo non mi ha convinto pienamente. Il comparto tecnico mi è sembrato più sottotono rispetto al remake del settimo capitolo e sebbene sia molto apprezzata la nuova enfasi data alle evocazioni, che sembrano finalmente assumere un ruolo centrale all'interno della narrativa, lo stile grafico ribattezzato il trono di spade di Nomura mi è parso eccessivamente generico. Ottima l'espansione stand alone di Spider-Man e Miles Morales non fa altro che confermare la bontà del motore messo su da Insomniac Games, che potrà sfruttare il nuovo hardware per portare l'esperienza di gioco verso nuove vette di cinematograficità. E non a caso è stata data parecchia enfasi alle sequenze scriptate, un po' all'Uncharted, che ricordano molte delle apparizioni sul grande schermo dell'amichevole ragno di quartiere. Continuano poi le ottime impressioni sul nuovo Resident Evil Village. L'ottavo capitolo sembra una sintesi perfetta tra l'innovativa impostazione in prima persona introdotta con il settimo capitolo e l'ambientazione villica, che strizza l'occhio a Resident Evil 4. Stesse sensazioni positive per Deathloop e la reimmaginazione di Oddworld Soulstorm. E a proposito di remake, uno dei gameplay più attesi in assoluto non ha mancato l'appuntamento. Il rifacimento di Demon's Souls ad opera di Bluepoint Games sembra cogliere perfettamente lo spirito dell'opera originale, seppur con alcune differenze. Graficamente si può tranquillamente inserire tra i titoli più promettenti di quest'inizio next-gen e poi nel filmato si è visto almeno un caricamento così rapido da lasciare più che soddisfatti. Per non parlare poi di quel titolo a tema Harry Potter che non può non aver catturato l'attenzione. Sviluppato da Avalanche, già autori di Just Cause e Mad Max, il gioco sembra puntare ad un'impostazione simile open world, il che lo renderebbe praticamente un bully all'interno di Hogwarts. Super interessante. Ma è ovvio che gli occhi erano puntati tutti verso il prezzo e la data di uscita della console. E che dire a proposito? Per quanto riguarda il prezzo, c'era da aspettarselo. Il divario non poteva essere così netto come tra le due console Microsoft e condividendo sostanzialmente lo stesso hardware, se non il lettore ottico, i 100€ di differenza tra le due PlayStation sono la distanza giusta per non far accavallare i due modelli agli occhi del pubblico. Se con PlayStation 3 Sony ha capito che c'è una soglia massima di prezzo che neanche il fan più affezionato supererebbe, la lezione più importante l'ha imparata dall'attuale generazione, la calma e la virtù dei forti. Con un brand così potente alle spalle non c'è alcun bisogno di avere la fretta di arrivare primi, l'importante è soddisfare le grandi aspettative del proprio pubblico, capendo qual è la direzione verso cui si sta muovendo il mercato. Ed ecco quindi che una delle offerte più sensate di questa PlayStation 5 è il catalogo dei classici PS4 gratuiti per tutti quelli che avranno attivo il plus sulla next gen, un'idea che sembra uscita direttamente da una costola del Game Pass di Microsoft. La PS5 Digital non avrà un prezzo competitivo come la Serie S, ma il range delle due nuove ammiraglie è pericolosamente vicino a Serie X e alla sua sorellina minore. E anche con la data siamo lì, a due passi dalla casa di Redmond, con una sola settimana di differenza a separare le due entrate in scena. Un distacco temporale così ravvicinato che difficilmente rappresenterà un vantaggio. Microsoft è stata costretta ad accelerare i tempi e ha provato in tutti i modi a condurre lei il gioco, ha messo fretta con l'annuncio di Scarlett durante le 3 del 2019, l'improvviso reveal della scocca di Serie X durante i Game Awards, poi gli Inside Xbox e le prove aperte ai giornalisti. Sony, piuttosto che bruciare le tappe e provare ad anticipare l'avversario, ha risposto sempre pacatamente, arrivando un attimo dopo. Se nell'ultimo anno quello di Sony spesso mi è sembrato un inutile temporeggiare che nascondeva un'impreparazione di fondo, ora giochi finiti sono costretto a ricredermi. Sony non è stata sprovveduta, ma semplicemente cauta e sicura di sé, un atteggiamento che di sicuro ha ripagato, visto la reazione entusiasta del pubblico. C'è da dire però che è palese come l'intero mercato si trovi in grave difficoltà e la pandemia abbia colto contropiede tutti, anche i grandi colossi dell'intrattenimento digitale. Vedere un'azienda come Sony non riuscire a garantire un lancio in simultanea mondiale nel 2020 è un bel colpo al cuore, così come fa strano realizzare che, una volta scemato l'hype, sono ancora tantissime le informazioni vitali che mancano. Non è chiaro ad esempio come funzionerà la retrocompatibilità e quale sarà la line-up di lancio, e fa strano vedere, così come per Microsoft, tantissimi titoli portati direttamente dall'attuale generazione, con lievi migliorie e molti altri previsti per un indefinito 2021. E no, poracci, dopo il fattaccio di Metroid Prime 4, ho giurato che non mi sarei mai più emozionato per un teaser trailer di un logo, quindi per me God of War 2 ancora non esiste. Insomma, a parte queste gravi mancanze, che però non dipendono direttamente da Sony, credo che PlayStation 5 sia stata presentata nel migliore dei modi possibili, e sono molto emozionato perché finalmente la next gen non è più un'idea, ma una realtà che diventerà concreta fra meno di due mesi. Voi cosa ne pensate? PlayStation 5 sbaraglierà la competizione o questa nuova generazione ci riserverà delle sorprese? E Nintendo, come risponderà al fuoco incrociato? Come al solito, vi aspetto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi video. Io sono il Poro Showcase, Sony Michele, ciao!